Siamo prossimi alla venticinquesima giornata di campionato, dieci giornate al termine delle ostilità, 30 punti a disposizione per raggiungere o migliorare gli obiettivi di inizio stagione. La rincorsa del Campobasso prosegue, il torneo è più vivo che mai. Per la prima volta il notaresco è a portata, in primis per il Matelica che accusa solo tre lunghezze di ritardo, con lo scontro diretto in programma in terra abruzzese il 22 marzo. Poi per il Campobasso a meno 6, nella corsa a primo posto dobbiamo tener conto anche della Re Canatese, ora quarta a meno 1 dai lupi. Insomma gli scenari sono già mutati rispetto all'andata, basti pensare che nelle prime 17 giornate il notaresco aveva lasciato solo 8 punti per strada, due sconfitte ed un pareggio, mentre nelle sette gare di ritorno Sansovini e compagni hanno concesso già 12 punti. Nei numeri il cambionetto di rendimento, oltre un fattore psicologico che a questo punto favorisce sempre chi insegue rispetto a chi deve comandare i giochi. Il compito del Campobasso è proseguire sulla strada intrapresa nel derby contro l'Olimpia nionese e ragionare match dopo match. Il prossimo ostacolo si chiama Montegiorgio. I marchigiani della provincia di Fermo navigano tranquilli a quota 35 punti, salvezza in tasca e possibilità di rientrare nella lotta per il quinto posto. Dopo una gran prima parte di stagione gli uomini di mister Baldassarri hanno accusato un calo abbastanza netto. Basti pensare che nelle ultime 8 giornate il Montegiorgio ha vinto in una sola circostanza il successo interno contro il Fiuggi, unica gioia piena del 2020. Questi sono solo numeri, poi c'è il campo dove tutto può cambiare. Al contempo quella marchigiana è una squadra che di fatto ha già raggiunto l'obiettivo. In questo i lupi dovranno fare la differenza, le motivazioni sono diverse e la fame di rimonta del campo basso dovrà essere decisiva. Non solo, anche vendicare la sconfitta dell'andata 0-1 a Selvapiana, gol realizzato da Mariani. Dieci centri per lui in campionato, ultimo stop degli uomini di Cudini prima della super serie di 16 gare utili consecutive. Sulla formazione è prevista la conferma della squadra tipo vista all'opera domenica scorsa contro il Porto Sant'Elpidio. Mentre per quanto riguarda i tifosi ci sarà la prevendita, nessuna limitazione, con un massimo di posti individuato in 228, dunque 228 tagliandi per i tifosi del campo basso. Al Civitelle, derby alto molisano, tra Olimpia, Agnonese e Vasto Girardi, fattore campo annullato per le due squadre che giocano sullo stesso sintetico. Nel match d'andata successo per i Granata, grazie alla bellissima doppietta messa a segno da Viscovic, intervallata dalla rete di Chiere Mateng. Round numero uno, dunque, all'Agnonese che vuole ripetersi e riscattare la sconfitta contro il Fiuggi, per tornare a muovere la classifica in ottica playoff. Al contrario, i gialloblu di Farina vogliono riscattare la sconfitta dell'andata e proseguire nella marcia verso la salvezza diretta. Motivazioni al massimo per entrambe le squadre, le società e le tifoserie. Un derby è sempre un derby e anche a livello goliardico è sempre bello vincerlo. In casa agnonese la sconfitta di Fiuggi è stata ben ammortizzata. La classifica non è cambiata più di tanto e sicuramente in questa fase della stagione una battuta d'arresto può far bene. Sì perché un'ulteriore riprova che senza la cattiveria giusta e la convinzione massima di tutta la rosa per portare a casa il risultato, risulta dunque difficile vincere. Lo step da salvezza all'otta playoff spesso crea uno scompenso mentale. Ecco perché lo stop può essere salutare se analizzato nel giusto modo. Mister Rullo non potrà contare su Minicucci per lui seconda delle tre giornate di squalifica e probabilmente su Frabotta assente già domenica scorsa per problemi muscolari. Lo staff cercherà di recuperare in tutti i modi il difensore centrale. In avanti ballottaggio a Maia Cone per affiancare a Costa nel consueto 3-5-2 adottato nell'ultimo periodo da Mister Rullo. In casa Vasto Girardi Farina deve fare i conti con la squalifica pesante di Mikhailovsky. Il difensore russo dovrà scontare ben tre giornate perché come recita il referto del giudice sportivo colpiva un calciatore avversario con un pugno ad un fianco a gioco fermo. Una brutta gatta da pelare l'assenza del centrale che salterà il derby, la sfida interna al Matelica e la trasferta di Cattolica salvo ricorso da parte della società. Al suo posto dovrebbe giocare Corbo pronto a rientrare nell'undici iniziale. Per il resto qualche acciacco per Fazio e Petrone. I due giocatori tuttavia non sono in dubbio e saranno regolarmente in campo domenica. Reclama Spazio Migno in gol contro la Vastese. Difficile vedere il classe 91 in campo da primo minuto salvo un cambio di modulo. Derby anche delle tifoserie per una domenica di sano sport e colore da vivere nel centro alto molisano.